Allora 4-4-2 storto che cosa significa? Qual è il piano gara della Juventus se schiera questa formazione? Cercare di buttare in the box, come dicono in Inghilterra, il pallone per il colpo di testa di Vlaovic, di Milik, quindi partendo dalla sinistra, e l'inserimento di McKennie. Si ricomincia esattamente da dove si è lasciato, da dove si è abbandonato, con lo stesso impianto tattico, tutto quello che è. E allora io vi chiedo, sfruttiamo sto cazzo di Cristiano, sfruttiamo addirittura Alexandro, perché questi palloni dalla sinistra devono essere messi dentro. Perché se noi, il nostro obiettivo è cercare il colpo di testa con tre saltatori che riempie l'area, ma non mettiamo nemmeno i palloni in area, che cosa siamo a fare? Cioè che cosa stiamo facendo? Prima di iniziare la live reaction, ti ricordo che qui sotto in descrizione potrai trovare il link per scaricare gratuitamente il numero 10 sul tuo cellulare. Per iOS e per Android, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando. Potrai trovare i video esclusivi che non troverai su questo canale YouTube, sempre registrati da me, e tutti gli articoli che sto scrivendo, sempre per numero 10. Mamma mia, guardate lì, guardate lì, ma guardate lì, ma sembra una partita da Covid, ragazzi. Guardate, sembra una partita da Covid, che male che mi fa vedere questa cosa. Si riparte, è iniziata Juventus-Bologna. Eh sì, perché noi grazie alla Roma ieri sera abbiamo la possibilità di sorpassare l'Inter, è incredibile. Attenzione, occasione per le Juve. Brutto appoggio di Blaubic, Rabiot la gestisce, si va su Costi, c'è ancora, sempre dalla sinistra, a riempire l'area di rigore. È esattamente la fotografia che abbiamo fatto nel pre-partita. Sì, Sandro, mettila bene, ti prego. Sì. Non era male. Bella! McCannny! Questo! Dove dobbiamo fare questo? Questo, questa è la nostra impronta della partita. Perché con questa formazione questo devi fare. È l'unica cosa. Però poi bisogna fare gol. Eh, ma stasera i tifosi li senti perché non ci sono gli avversari, eh? Non ci sono i tifosi del Bologna. O comunque ce ne sono veramente pochi, perché la curva del Bologna ha annunciato di non andare allo stadium. Proprio perché i press erano troppo alti. Gli ha recuperato una palla, contropiede. Ti prego, tira. Kostic! Sì! Filippo! Un contropiede, ragazzi. Si è riuscito a fare un contropiede. Domani nevica. Incredibile. Neve in tutta Italia. Un contropiede. Un gol in contropiede. Impossibile. Non ci posso credere. Cosa succede? Ci siamo impassiti. Non ho visto chi ha iniziato il break più che altro. Assis di Dujan Vlaovic. Primo gol di Kostic con la maglia della Juventus. Finalmente un contropiede, oh. Ci posso credere. Di Milik. Madonna, Milik che fa il centrocampista di rottura. Tra l'altro Kostic ha fatto un gol identico l'anno scorso col Barcellon. Non sbaglio, Kostic, in Europa League. Ah, però gliel'han deviata. Gliel'han deviata. Ce l'ho anch'io Kostic contro il Fanta Calcio, tra l'altro. O Kostic contro il Fanta Calcio, ecco. Si spiega tutto. Si spiega tutto. Porca vacca. Porca vacca. Incredibile. Primo gol della storia di Kostic in Italia. Non è successo niente, ragazzi. 1-0. 1-0. E adesso inizia il lungo dominio del Bologna. Ma attacco, guarda. A me pare che anche perdendo abbiamo deciso di non cacciarlo. Quindi a questo punto spero di vincere sempre. Perché mi avviso che non funziona questa cosa. Fermo restando che io non ho mai tifato conto per esonerare l'allenatore. Però non funziona questa cosa. Quindi ti conviene tifare per la Juve e basta. Cosa di verso non lo vedo. Cioè ci sono stati tanti minuti di nulla. Però aver segnato in contropiede già è un dato. Siamo ancora qua. Reaggressione alta. Questa, Alessandro, la mette. Milicca! Se l'è magnato. Se l'è magnato. Se l'è magnato sul suo piede. Forse era anche in fuorigioco. Ma ha tutto il tempo di far quello che vuole. Ma no, ma perché noi facciamo sti errori di merda in costruzione banali, banalissimi? Comunque nel complesso tra Juve e Bologna 42 minuti bruttissimi. Cioè dovrei inventare. Cioè non posso analizzare un primo tempo in cui è peggio il Bologna. E' che peggio ha fatto il Bologna. Che il Bologna ha fatto peggio di noi. E' decisamente peggio di noi. Incredibile. Sì, allora, ecco. Forse l'unica cosa che posso salvare è questa leggera voglia che vedo di cercare di aggredire il pallone. Cioè vedo una voglia diversa nell'aggressione. La 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 la. Ecco, una cosa diversa che sto vedendo oggi è che si prova sempre di più la via del contropiede. Cioè solitamente recuperavamo, andavamo all'indietro. Invece stavolta recuperiamo, andiamo in avanti. E' già qualcosa, eh? Bravo, loca, gran palla. Sì, 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 sì! Entrata! Doppio contropiede della Juventus! Ma di cosa stiamo parlando? Siamo impazziti! Gol su azione di Vlaovic! Siamo impazziti! Duce! Vlaovic! 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 Tornato al gol anche lui. Tornato al gol pure lui. Finalmente. Era dal 15 d'agosto. Dal 15 d'agosto che non faceva gol su azione Vlaovic. Meno male che hanno sbagliato. Perché questo contropiede nasce proprio da un erroraccio del Bologna. Erroraccio del Bologna. E' buono! E' buono! Rabbio storto a sinistra. Eh, potrebbe essere anche rabbio storto a sinistra, eh? E' proprio rabbio storto a sinistra! Oh, che bello! Porca puttana che palle! Uh! Sai che era bello questo? Era un gran bel calcio d'angolo questo. Bonucci! Poi ha buttato giù la porta Arkadiusz Minic! Che gol di Minic! Dimmi che non è fuori gioco, Bonucci, che ho la sensazione o il terrore! Ma che gol ha fatto Arkadiusz Minic? Secondo me è fuori gioco. Secondo me è fuori gioco. Però... E' un cazzo di gol! E' buonissimo! E' buonissimo! E' buonissimo! E' buono! Porca vacca Arkadiusz! 3-0 per la Juve! Incredibile! Dopo un primo tempo terrificante! Non fermiamoci, vi prego! Nel secondo tempo aveva avuto forse più occasioni rispetto al primo. Cioè, incredibile! No, Alessandro, ma dai! E' la stessa telecamera da Salernetano, esatto. Sì? Sì, Vlaovic attacca la porta. Bravo, Vlaovic attacca sta porta! No, l'ha sbagliato! Però adesso l'Iventus match in occasioni! Questo cazzo voglio andare in avanti! Finalmente una Juve che arriva in porta in due passaggi! La svolta non della stagione, ma la svolta dell'idea! Cazzo, c'è una squadra che non è mai ripartita fino adesso! No, infatti non c'è da illudersi! Certo, non è che si passa da Juve Bologna! Dove vai, Rabiot? Dove stai andando? Cosa fai? Sei impazzito! Cosa stai facendo? No, il palo! Vedete? Vedete però cazzo che andiamo in avanti! Cioè, lo state vedendo questo secondo tempo? Si va in avanti! Vuoi dire che abbiano capito che per far gol devi andare verso la porta degli avversari? Incredibile! Sarebbe una rivoluzione nel calcio! Secondo voi si sono messi a studiarla questa cosa? Ma secondo me, se andiamo verso la porta degli avversari, è più probabile fare gol! E tutti, oddio, incredibile, cosa dici? La riunione, Allegri, Landucci, Bianco, tutti lì che parlano, salta su, arriva Landucci e fa Ragazzi, ma andiamo verso la porta degli avversari! E Allegri tipo, con la penna in mano che ragione fa Cazzo, hai ragione! E' andata così! E tutti, no, Gelli, assurdo! E poi sono andati in campo! Sono andati sul campo d'allenamento! E ho detto, ragazzi, novità! Dobbiamo fare gol agli altri! E tutto uno staff che pensava di aver detto una roba incredibile! E arriva Landucci e gli dice, grazie a cazzo! Ah, e De Sciglia, eh, beh, non può mancare! Eh, beh, non può mancare De Sciglia! Che fai? Non gliela fai fare un'altra partita a De Sciglia! E si vince! Per 3 a 0! 3 a 0, cazzo! Finita! Vittoria! Che bello vincere una partita! Che bello, finalmente, tornare a vincere!